avete confermato che siete dei pezzi di merda avete confermato che di questa stagione non ve ne fotte un cazzo il campo ha confermato che olivera deve andare a raccogliere i pomodori in uruguay solito copione già scritto primo tempo da buttare nel cesso possesso palla sopra il 70 per cento di una sterilità immane immane zero ti rimporta a parte quella mezza quel mezzo tiro di di lindstrom l'udinese più vicino al gol l'udinese peggior squadra degli ultimi anni il peggior l'udinese degli ultimi anni lasciamo stare troviamo un gol con osiman con un bel cross col destro di politano la mia risultanza se piccoli applausi e beh sono tornato serio perché perché mi hanno tolto l'entusiasmo mi hanno tolto l'adrenalina mi hanno tolto tutte le energie quest'anno prima della partita poi raccmani che dice no il film ci ha dato molte motivazioni ha già visto ho visto le grandi motivazioni che vi ha dato e calzona che prima della partita dice riguardo all'indstrom è un ragazzo che sta crescendo l'ho visto bene in allenamento un culo e meno male meno male è stato i peggiori in campo 4 poi è un acquisto sbagliato lo ripeto sì è un giocatore forte per me sì per oggi da 4 stagione anomala e vergognosa di tutti che voglio che devo commentare io cosa ho detto dopo la roma chi mi pare che solo in live l'ho detto forse l'ho detto anche nei video su youtube no cosa ho detto che coludine che coludinese lunedì avremmo giocato di merda perché la testa perché la testa perché tu hai affrontato la roma in casa il derby del sole la roma che è una squadra che ti dà motivazione un po' come giocare con la juve milan inter insomma squadre che stanno sopra di te in classifica e ti sei comportato come una piccola che vuole fare bella figura con una big gli hai giocato bene oggi con un ultimese con un senza quara e quanto cazzo fatichiamo quara che il napoli voglio e quara dipendente è una cosa che non sopporto che il napoli possa dipendere sempre dai giocatori perché non teniamo dei cazzo di panchinari degni di essere chiamati tali che poi si è fatto pulire male al raspadore ma vabbè cioè noi pareggiamo con l'udinese senza approfittare della fiorentina cioè vaiù è una stagione maledetta è il solito copione già scritto come ho detto prima perché tu segni ti accontenti ti accontenti perché poi dopo il gol hai fatto un tiraccio contro re che becca mi pare biol biol con la porta biol e giustamente olivera si addormenta con il cross di samardic se non mi sbaglio era samardic a fare il cross sponda in mezzo casino totale dentro l'area e chi segna success primo gol in stagione ormai abbiamo l'abbonamento con i giocatori e i loro primi gol stagionali teniamo l'abbonamento siamo tornati se non mi sbaglio ai tempi di mazzarri che segnavano spesso i giocatori il loro primo gol in serie a contro di noi poi questo video dura poco perché alla fine è solito copia in colla solito copione già scritto soliti commenti di schifo di senza esaltazione che poche cazzo c'è da esaltarsi senza emozione senza niente poi domani un video più approfondito come sempre menzione d'onore tre giocatori positivi se dobbiamo dire positivi meret ha fatto due interventi veramente importantissimi soprattutto il secondo con un colpo di testa ravvicinato su un calcio d'angolo cayust ha giganteggiato al centrocampo ma soprattutto nel primo tempo ha cercato sempre di riempire lo spazio ma non veniva mai cagato e Usman che al di là del gol almeno almeno ha lottato qualcosina in più perché è uscito per un problema a ginucchio sperando che non sia niente di grave i peggiori in campo Olivera Ostigard ma quello deve giocare perché? perché ha giocato bene con la Lazio una partita e basta e Lindstrom che lo ripeto acquisto sbagliato giocatore forte sì però fuori contesto ma ha giocato male punto ma io che cazzo c'è da dire? niente più altro match point tra virgolette fallito la conference ma io dico no ma a Castle Volturno ci stanno gli specchi ma i giocatori si guardano nello specchio non gli viene voglia di sputarsi in faccia per lo schifo che sia per la mancanza di rispetto nei nostri confronti una mancanza di rispetto per lo scudetto conquistato cioè Nindirimena io non posso credere che solo la mancanza di Kim possa essere stata proprio dannosa in generale vota a fornista stagione guaiu guaiu forza Napoli sebra al di là del risultato al di là delle competizioni che andremo a fare o nessuna competizione europea che andremo a fare al di là dei giocatori che indosseranno la maglia forza Napoli sempre e vaffanculo alle occasionali ciao ma vaiu grazie a tutti